Siamo qui con Fabi, numero 8 del Trastevere Calcio. 7 a 0 per voi, cosa ne pensi di questa partita? Sicuramente siamo entrati in campo con la voglia giusta e la ripresa del campionato ci ha invogliato ancora di più a vincerla e portarla a casa. Credo che ci meritiamo tutto questo. Abbiamo lavorato intensamente queste due o tre settimane e i risultati si sono visti in campo. Adesso testa le prossime partite, sono contenta di essere partita titolare. Ne pensi di questi tre punti fondamentali per voi per la rincorsa al primo posto? Sì, sono tre punti fondamentali. Anche i sette gol servono per darci una spinta per le prossime partite. Anche mentalmente per noi, che usciamo da un periodo difficile. Sono contenta che la squadra sia arrivata a questo traguardo, ma la strada è ancora lunga. Personalmente mi sento bene e sento di poter dare tanto alla squadra. L'ultima domanda, prima di salutarti. Cosa ne pensi della tua prestazione personale quest'oggi? Sì, come detto in precedenza, mi sento bene e dimostrando tanto si ottengono risultati. Di conseguenza credo di aver dato tutto in questa partita e i risultati parlano da soli. Ringraziamo Fabi per essere stata con noi. Ringraziamo Fabi per essere stato con noi.